Lo prendiamo ragazzi? Raccontare la vita del giovane Federico Fellini è un po' raccontare la vita dei nostri nonni, dei nostri genitori. Significa raccontare la vita di un bambino e di un adolescente che nasce in una società italiana degli anni 30 e vive la società italiana degli anni 30, dove severe la scuola, severe la famiglia, dove severe sono in generale le istituzioni, pensiamo al fascismo. Ecco, però questo ragazzo, questo bambino ha una peculiarità, ha un'unicità, è quella di essere un amante dei disegni, essere amante dei fumetti e piano piano riesce a estragnarsi da questa realtà molto complicata, molto particolare del periodo, proprio attraverso la fantasia, proprio attraverso il disegno. Esiste ancora quella Rimini lì? Allora, la Rimini di Federico Fellini negli anni 30 purtroppo in gran parte è stata distrutta dai bombardamenti aerei della Seconda Guerra Mondiale. Lui stesso quando nel 1945 tornerà, dopo la sua parentesi romana, dopo la prima parentesi romana ovviamente, racconterà di un paesaggio lunare e quindi tantissimi dei suoi luoghi sono ormai scomparsi. Per esempio la casa nativa, la casa nativa che è vicino al Grand Hotel, che poi lui renderà in un certo senso anche immortale, ecco quella, era una casa popolare, molto povera, è stata distrutta dai bombardamenti, così come è stato distrutto dai bombardamenti un teatro importantissimo dove la famiglia Fellini, vicino al quale la famiglia Fellini ha abitato. Questo teatro si chiamava Poli Teama, un nome splendido, Polis, Tanti, Teama, Spettacoli e la famiglia vi ha abitato dal 1928 al 1930 e questo Poli Teama, tra le tantissime rappresentazioni che faceva, faceva anche rappresentazioni di burattini, rappresentazioni del circo e quindi proprio nei giorni in cui la famiglia Fellini si trasferisce accanto a questo teatro per esempio c'è un circo equestre e lui racconta tantissime volte di essere andato a vedere all'interno di questo teatro, che poi prende il nome del teatro del Carnevale dei Vitelloni che si chiama proprio Poli Teama e lui racconta anche in un'intervista che quella casa è stata la casa della sua folgorazione. Una seconda folgorazione lui l'ha avuta poi, lo dice lui stesso, all'interno del cinema fulgor, che esiste ancora ed è stato recentemente rinnovato, appunto guardando il film Macista all'inferno. Poi appunto lui ha avuto anche, tu lo racconti in questo libro, diciamo quella che tu definisci l'esperienza salesiana, sappiamo che i salesiani dà sempre il carisma, i salesiani di Trombosco è quello dell'educazione. Sicuramente lui nel 1930 ha passato un'estate, lo stesso lo dice, a mezzo convitto dai salesiani. Allora la chiesa dei salesiani a Rimini è proprio accanto al mare, basta attraversare la strada e ci si ritrova al mare e quindi sembra di rivedere un po' la scena di otto e mezzo, esattamente la scena resa poi famosa dalla Saraghina anche. Senti e poi insomma alla fine tra questi luoghi, molti ce li hai già raccontati in questa intervista, ce n'è uno che è quello che è un po' anche il tuo luogo del cuore o quello magari a cui ti sei ridicato di più? I luoghi sono tanti, sono tanti e mi viene in mente, molti sono ovviamente, non ci sono più come ti ho accennato, uno è il bar da Raul che è il bar dei vitelloni, i cosiddetti perdi tempo, dove Fellini andava ma non così tanto come sembra. C'è poi un altro luogo molto, anche questo dimenticato oramai, proprio davanti al tempio malatestiano, tuomo riminese, che era un laboratorio artistico, si chiamava Febo, Fellini Bonini, erano due amici che nel 1936-37 prendono in affitto una piccola sala per fare dei disegni, Fellini si mette a 16 anni, a 17 anni a disegnare le caricature per i turisti, andava in spiaggia tutto vestito di bianco, sempre vestito puntualmente perché lo chiamavano Gandhi, era alto alto e magro magro appunto, però diciamo in molti casi le persone rifiutavano queste sue caricature, però questo mostra come lui fosse già un appassionato ma soprattutto un abilissimo artista.